L'altro ragionamento che bisogna fare è anche dire la verità, dire la verità che la moschea non è paragonabile alla nostra chiesa, la moschea non è solamente un luogo di preghiera, non a caso nei paesi islamici il ruolo esclusivo alla preghiera è un altro edificio oltretutto non consacrato. La moschea è un luogo di incontro sia per la preghiera che per l'attività politica, non a caso il capo della comunità non è paragonabile al nostro prete, ma è come se fosse prete, sindaco e preside della scuola messi insieme, questa è la verità, dopo che se ci vogliono raccontare, perché è comodo farlo, che è come andare in chiesa, uno va in moschea perché è musulmano, non è così.